E allora guardiamo i primi giornali, partiamo dal giornale L'appello di 268 paperoni, fateci pagare più tasse Sì sì, è scritto proprio così, ma ancora l'appello dei super ricchi a Davos Tassateci di più, orgogliosi di pagare di più a Davos l'appello di 260 ricchi Non abbiamo cambiato i titoli, è proprio così Allora colleghiamoci subito da Milano con Leopoldo Gasparro Buongiorno, direttore di Wall Street Italia Le chiedo subito, come mai così tanta generosità? Ma io non l'ho mai vista, non è che siano sbagliati questi titoli dei giornali Tutti questi miliardi che vogliono dare indietro Pare che abbiano consegnato una lettera ai responsabili del World Economic Forum E abbiamo detto, noi siamo pronti a farci tassare per il 2% dei nostri patrimoni Ed è un patrimonio che non si riesce neanche a misurare Qui abbiamo una concentrazione di ricchezza che è spaventosa Qualcuno dice che stanno in qualche modo preparandosi a tante elezioni in tanti paesi Il G20 quest'anno, praticamente in moltissimi dei paesi del G20 Ci sono elezioni importanti su tutti gli Stati Uniti, non dimentichiamolo E sai, fare un'operazione del genere diventa un'operazione popolare Di avvicinamento a quelli che sono meno fortunati Io non credo in queste manifestazioni di generosità È come se fossero comprati, tra virgolette, attraverso quest'operazione Delle approcci diversi rispetto alla popolazione che ha meno fortuna di questi paperoni Qua stiamo parlando di paperoni che negli Stati Uniti ad esempio Mantengono il 75% della ricchezza in pochissime mani Ma anche in Italia, la settimana scorsa è uscito un dato in cui Si dice che il 45% delle famiglie tiene praticamente il 75% della ricchezza Quindi stiamo parlando di numeri importanti Stiamo parlando di un periodo in cui le diseguaglianze stanno aumentando sempre di più Ecco, anche il World Economic Forum è una manifestazione di ricchezza e di potere non indifferente E questa è una concentrazione che in certi momenti può dar fastidio Abbiamo visto che ci sono tanti movimenti populisti in questo momento nel mondo E allora sai, 2% di tantissimo è pur sempre una piccola parte E' tantissimo, certo, come stavi dicendo prima Gianluca Dippone, ci ha raggiunto qui in studio Buongiorno, grazie per essere qui perché vorrei con lei commentare proprio questa grafica La numero 1, guarda il 42% dei contribuenti paga il 91% del totale Per ogni contribuente che versa almeno 1 euro ce ne sono due che non versano nulla 54% a redditi mediani inferiori a 10.000 euro lordi l'anno Allora in pratica qui c'è la fotografia tra chi presenta la dichiarazione dei redditi e i cosiddetti versanti Ossia chi presenta la dichiarazione paga almeno 1 euro di tasse a livello di IRPEF Perché circa su 41 milioni e mezzo di persone che presentano la dichiarazione dei redditi Circa 13 milioni ha un reddito cosiddetto medio di 7.000 euro e non paga assolutamente 1 euro di imposte Questo per effetto di detrazioni, di tax free Quindi sostanzialmente vi è una cosiddetta mappatura rispetto a quelli che vengono a presentare O sono obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi Addirittura soltanto 500.000 contribuenti dichiarano oltre i 100.000 euro E effettivamente la maggior parte è abbastanza strano Addirittura vi sono soltanto 70-80.000 contribuenti che dichiarano oltre i 300.000 Quindi sono cifre più o meno che dovrebbero far riflettere Guardi quest'altra slide, la numero 2 Mancate entrate tributarie, 73,2 miliardi Contributive 10,4 miliardi per un totale di 83,6 miliardi In realtà questa è un'ulteriore fotografia per ciò che riguarda la cosiddetta evasione fiscale e contributiva Rispetto chiaramente all'anno precedente In questo caso parliamo, diciamo, contrapponiamo 2021 rispetto al 2020 C'è stato comunque un recupero, nel senso che l'evasione fiscale si è ridotto E si è ridotto anche il cosiddetto tax gap Cioè sostanzialmente le imposte che effettivamente dovremmo pagare E quello che poi magari il contribuente paga in maniera effettiva E' chiaro che ci sono tutti gli strumenti per poter ridurre e rendere Come dire, meno sconfortanti questi numeri Perché poi c'è da dire una cosa molto importante Che effettivamente ogni anno viene stilato una sorta di osservatorio Rispetto a quelli che sono gli accertamenti che vengono effettuate per recuperare le imposte Solitamente la Guardia di Finanza ogni anno chiaramente dice Abbiamo effettuato degli accertamenti e abbiamo individuato soggetti Che non hanno pagato imposte per 50 miliardi, 60 miliardi Però poi effettivamente quei 50-60 miliardi il recupero è di circa un sesto Cioè se ne recuperano 10 o 12 Gli strumenti ci sono e andrebbero sostanzialmente armonizzati Perché l'agenzia delle entrate rispetto ad altre amministrazioni finanziarie Dispone di una mole di informazioni Attraverso l'incrocio di questi dati si individua il soggetto infedele E si sta andando verso quella direzione Torno al direttore Gasparro perché proprio sul suo sito è apparso questo Un articolo di recente proprio che il 13,7% degli italiani pagano le tasse Oltre il 60% del loro reddito Allora vi chiedo e gli altri e poi che cosa si può fare allora? Ecco bella domanda sugli altri perché di quel 13% sono 8,2 milioni di persone e basta Gli altri come diceva chi è in studio con te molto spesso presenta una dichiarazione dei redditi Dove non versa neanche un euro cioè presenta un reddito che non è tassato E poi ci sono tutti gli altri Quello che dobbiamo valutare come si stava dicendo da studio Che lo Stato recupera soprattutto l'agenzia delle entrate recupera su quello che conosce Per cui tutte le mancate dichiarazioni cioè coloro che non hanno mai versato le tasse Non vengono neanche vessati dall'agenzia delle entrate Devono essere individuati quindi quegli 8,2 milioni di persone che pagano le tasse Il 60% delle tasse poi vengono anche verificati e controllati e prendono anche delle multe Magari per delle anomalie nella presentazione delle tasse Qui bisogna far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate Questo è un problema grosso in questo paese Giustamente quello che dice il direttore è questo perché dice se non le hai mai pagate prima Non fai parte, non ti conosciamo neanche poi Ma soprattutto bisogna eliminare i cosiddetti maggiori redditi determinati in maniera presuntiva Che effettivamente colpiscono che le tasse le ha sempre pagate È un controsenso ma è la realtà Torneremo per capire veramente quello che si potrebbe anche fare e come si fanno a incrociare il tutto Grazie, grazie direttore Lopoldo Gasparo, grazie per essere stato con noi Grazie Gianluca Team Poi